È necessario considerare la popolazione nella sua interezza, quindi la popolazione non regolare, degli stranieri non regolari, che ben sappiamo esiste a Prato, anche numerosa, deve essere in qualche maniera immunizzata, altrimenti rischiamo che una volta completata la campagna di immunizzazione delle persone che conosciamo, rimangano dei focolai che facciano ripartire il contagio. Spesso dalla maggioranza di centro-sinistra viene negata l'esistenza della clandestinità, soprattutto della popolazione di origine cinese, ma tutti sappiamo che non è così, ogni volta che vengono fatti i blitz riemergono numerosi casi di persone che non dovrebbero essere qui in Italia, però di fatto ci sono. Quindi in questo senso bisogna non mettere la testa sotto la sabbia e affrontare il problema in maniera molto pragmatica, perché è nel nostro interesse sapere che tutti siano veramente immunizzati.